Ciao a tutti da Mountain Bike Connection Summer ad Andalo in Donomiti Bike Area siamo qua con la Rottwild RX 735 una e-mountain bike full power del brand tedesco che da qualche anno a questa parte si è dedicato esclusivamente alla mountain bike a pedalata assistita avevamo già visto la sorellina IMTB Lite sempre basata su motore Shimano EP8 però con batteria da 375 wattora ora invece siamo qua appunto la sorellina full power che vede una cinematica ovviamente adeguata al dimensionamento superiore e un telaio che ruota attorno alla batteria più capace da 735 wattora il brand tedesco ha lavorato sul telaio in fibra di carbonio è un full carbon con un top tube che ha forme e spessori ottimizzate per accogliere per l'appunto la batteria estraibile da 735 wattora è un progetto prodotto in esclusiva per Rottwild quindi con un peso estremamente contenuto che permette di arrivare per la bici completa a una soglia che nell'allestimento doppi gamma è intorno ai 21 kg un valore realmente eccellente per una e-mountain bike full power dedicata all'utilizzo all-mountain ricordiamo che Rottwild ha in gamma anche la versione più enduro e addirittura quella gravity quindi con un diverso dimensionamento qua siamo intorno a 150 mm alle ruote con un allestimento che non fa mancare nulla all'utilizzatore finale quindi la bici è davvero out of the box e si può iniziare a girare subito sui sentieri noi abbiamo provato sui trail di Dolomiti Paganella sia nel giro pedalato proposto da Mountain Bike Connection Summer che vede la parte finale di Udust Trail sia all'interno del park quindi Hustle & Flow, Willy Wonka e Zanna Bianca il feeling è davvero entusiasmante Rottwild ha lavorato per appunto dare una guida giocosa e attiva per gli amanti di quelle bici che non sono come dire delle schiaccia sassi per i sentieri da affrontare a tutta ma per appunto giocare tra le curve, tra le sponde tra gli avvallamenti e le compressioni del terreno e trarre il massimo giovamento e da questo punto di vista il peso che appunto come abbiamo anticipato è intorno a 21 kg fa tanta differenza rispetto a altre in mountain bike più pesanti vi salutiamo e vi ricordiamo che abbiamo altre succose novità da Mountain Bike Connection Summer 2022